Grazie 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 ho passato a l'elevo dobbiamo vedere se vede a l'esmerzco Oh buona 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 laura bum vedo si moro buona vedo buona 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 ... 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 Oh 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 Cacchini No It's a Aussie There of It's to be a It's Air Sì, non so, non so, non so, non so, non so. Oggi, oggi, oggi come è delOKing, doコ che èЧловito? Hmmh Oggi, queste le Unasciuto do taglio, qui senti per quanto finisce, vann das Jonghi? non ho mai riuscito non lo mi sembra non mi sembra lui no i vedi come si te muo non ho visto come si te muo non ho visto come si te muo non ho visto grazie Miške Miške Poi, no, no? E, no, no Pastora Unico 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 Miška è più calda. Ma non è più molto più... ...è più più okroglie. Miška – mamà rad... ...la francesa è più calda. Miška è da bene. Miška è da bene. Poco ciò? Poco ciò? Poco ciò? Poco ciò. Poco ciò, sì. Grazie a tutti